Allora ovviamente non posso fare spoiler quindi devo essere molto generica perdonatemi per questo ma Capiamo benissimo Alice si è preoccupata tanto partendo dal suo cuore infranto all'inizio degli altri e invece piano piano in questa seconda stagione cominciamo a vedere il contrario che inizia a occuparsi di se stessa e anche ad amarsi e questo è un bel modo di poter stare anche accanto agli altri quindi la vedremo in altre mille avventure con il suo solito disagio agio sarà molto divertente Per quanto riguarda Davide ancora più che in altri personaggi è stato fondamentale lavorare sul suo passato che poi è una cosa che so io il pubblico scoprirà qualcosa nella seconda stagione ma io nel mio diario ci ho scritto molte più cose di quelle che vedrà il pubblico perché ecco il personaggio di Davide si poggiava proprio su questa cosa su un passato apparentemente risolto quindi tu vedi quest'uomo che è in gamba sul lavoro e sveglio intuitivo eccetera ma in realtà invece ci sono tanti punti interrogativi o comunque cose che non ha voluto e non è riuscito ad affrontare e quindi nella seconda stagione vedremo se nella prima Davide era molto misterioso velato criptico nella seconda invece sarà sarà costretto a tirar fuori tutto quello che ha dentro e sia metaforicamente che letteralmente avrà tanto da da dire e da fare quindi questo posso dire su Davide e sul rapporto con Alice beh per come ci siamo lasciati alla fine della prima stagione Davide deve assolutamente cercare di spiegarsi di farsi farsi capire diciamo abbiamo cominciamo una seconda stagione con una Alice più consapevole che è una donna che ha conquistato delle delle certezze ha delle consapevolezze soprattutto come come donna sul lavoro e nei rapporti mentre abbiamo un Davide che era stato presentato come l'uomo appunto tutto ad un pezzo risolto invece inizia la seconda stagione arrancando sgretolato dei come uno specchio un po' che si sta rompendo e vediamo se poi si rompe definitivamente oppure riesce a incollare tutto e a risplendere a me piace più della prima almeno dal punto di vista di sceneggiatura e di tutto quello che si portava dietro la trovo più ricca cercherò di parlare un po' più in generale perché in realtà questa cosa coinvolge molto i personaggi in senso lato diciamo che la seconda stagione secondo me ha a che fare con con due cose nella prima si lavorava sulla presa di coscienza su chi si è chi è Alice quella è la grande domanda di Alice Bassi chi sono cosa voglio e quindi chiede interroga le stelle ok uno dei primi grandi insegnamenti che gli dati io che poi secondo me è l'insegnamento bello tra virgolette se vogliamo chiamare l'insegnamento però il messaggio che gli da è puoi chiedere alle stelle ma le stelle non scelgono per noi non dicono chi siamo ci possono guidare ma poi in realtà siamo noi gli artefici di quello che creiamo la seconda stagione è assodato questo questa domanda continuerà perché si approfondirà però la seconda stagione io la vedo più come un percorso di presa di responsabilità di quello che si è questo può voler dire tante cose può voler dire cambiamento può voler dire rottura può voler dire anche inizio no quindi io non ho detto niente queste tre cose sono tutte valide penso si vedranno ma non solo in Tio Andrea non solo in Alice si vedranno tanti cambiamenti tante prese di coscienza e quindi tante storie che tra loro comunicheranno quindi penso che ecco non è che si tireranno le somme però sì quella cosa che dicevamo all'inizio la seconda stagione è un po' più ricca della prima sotto questo punto di vista perché iniziano anche ad intrecciarsi i personaggi in maniera ancora più coesa tra loro quindi secondo me li daremo questo poi sono sempre curioso non voglio mai dire troppo ma non tanto per una questione di spoiler perché sono sempre curioso di vedere cosa le persone vedranno in questa storia no è questo è questo il bello del del cinema come del teatro come della televisione in questo caso nel senso ognuno poi ha una storia da raccontare dopo aver visto ma anche un libro ognuno di noi lo interpreta un po' a proprio piacere vede delle cose no e diciamo che il grande il grande la grande fortuna è quando con una singola interpretazione ma in questo caso sempre con un'interpretazione un lavoro di gruppo vedi quante cose con una sola scelta con una sola battuta hai creato nelle persone che ti hanno guardato no quindi questo è è bello sono curioso sono curioso anch'io di vedere come cosa vedranno gli altri e